Di certo non è stato il primo a pescare a città tutto sommato tranquilla, seppure tra alti e bassi, ma sicuramente è da inserire tra quelli più feroci per il contesto in cui è avvenuto. Un parco, una passeggiata, il ritorno dalla spiaggia, un aperitivo, una pizza, persone che vanno e vengono, momenti di relax estivo di fine giornata. Ed è qui, in un bar della strada parco, che il primo agosto del 2022, poco prima di cena, si è consumato l'agguato. Il killer con il casco, la mira presa a distanza ravvicinata, i colpi di pistola e lo stupore di tutti, frizzati sulla scena, paralizzati dallo stupore. Poi il fuggi-fuggi generale, mentre i due nel mirino cadono a terra. Uno senza più vita, Walter Albi, 66 anni, architetto di Francavilla al Mare. L'altro, ferito gravemente, Luca Cavallito, 48 anni, di Pescara, ex calciatore, figlio d'arte. Una di quelle pagine che la città non avrebbe voluto vivere e della quale avrebbe preferito disfarsi subito, ma con l'assassino assicurato alla giustizia. Ed ecco che, sei mesi dopo, arriva la notizia. La persona che si ritiene essere il killer di Albi è stata arrestata ed è finito in manette anche il presunto mandante. I particolari stamattina, nella conferenza stampa in Questura. Un'indagine complessa portata avanti anche utilizzando i metodi tradizionali. L'osservazione attenta, l'incrocio dei dati, tutto questo ha contribuito a fare luce sulla vicenda. I nomi, ufficialmente, non vengono detti ai giornalisti, ma il segreto a vita breve. Mimmo Nobile, pescarese e Natale Ursino, originario di Locri, sarebbero rispettivamente l'esecutore materiale e il mandante dell'agguato. La ricostruzione della vicenda, Albi e Cavallito vogliono investire e fare soldi. Tanti incrociano il calabrese grazie al contatto di Cavallito. La missione da compiere è una traversata oceanica per trasportare merce, forse droga. Traversata che però non si compirà. Di qui la rabbia del calabrese, che dà il loro appuntamento nella bar della strada parco e poi invece manda il killer. Le indagini hanno ricevuto un impulso decisivo quando i fatti della strada parco sono stati messi in correlazione con la rapina al centro agroalimentare di Villanova di Cepagatti. Infatti la pistola rubata ad una guardia giurata nel corso della rapina all'11 luglio del 2022 risultò poi essere la stessa utilizzata nell'agguato del primo agosto. Elementi decisivi, il ritrovamento non solo della pistola ma anche dello scooter e del casco utilizzati al momento dell'agguato. Tutti rinvenuti nella zona di Fontanelle. La persona che riteniamo mandante è colui che quella sera aveva un appuntamento dove non solo non si è presentato ma non si trovava neanche in loco pur continuando ad assicurare con i messaggi che era lì lì aspettatemi sto arrivando scriveva ci sono le pizze pronte sto arrivando. Lui era molto lontano perché lo sappiamo dai luoghi di impegno del telefono e si è presentato il killer. C'erano degli affari con la persona che riteniamo essere mandante e anche, questo non l'ho detto prima, una accertata inimicizia tra l'esecutore materiale e Cavallito, un litigio forte, un dissidio molto forte per cui avevano interrotto i rapporti pochi mesi prima. Qui c'è stato un evento che ha visto dialogare personaggi appartenenti a un certo spessore di criminalità con personaggi che in qualche maniera non avevano la percezione perlomeno completa di questo livello per cui il mancato rispetto di un prestito e il mancato rispetto di un'operazione, un trasferimento transoceanico che doveva essere fatto è stata la chiave di volta per cui è stato decretato questo duplice omicidio. Uno perché non aveva mantenuto la promessa, l'altro perché aveva presentato, quindi il soggetto che è rimasto vivo sostanzialmente, aveva il torto di aver presentato a certi ambienti un soggetto che è stato ritenuto non affidabile. Si sa cosa dovevano trasportare? O ne avete una vaga idea di cosa avrebbero dovuto trasportare in mare? Si tratta di una traversata transoceanica, dal Sud America all'Europa, quindi non sappiamo se è droga o latitante, come diceva il procuratore. Se vuol sapere la mia percezione da ex investigatore, secondo me si trattava di stupefacenti di tipo cocaina.